ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di noi che usiamo lightburn oggi andiamo a vedere quella che dovrebbe essere la prossima release di lightburn la 1.7.00 ma la vediamo però con una versione di release candidate che le release candidate sono versioni che sono un po più in alto della beta perché una volta lightburn metteva le beta pubbliche e sono quelle più vicine alla versione definitiva quindi release candidate cioè è la candidata ufficiale a diventare la release nuova allora andiamo a vedere pregi di questa di questa nuova versione le novità e le cose che potrebbero interessare la maggior parte di voi ma innanzitutto andiamo a vedere da dove si scarica e la versione quindi praticamente se io vado sul browser vado nella page di lightburn software andiamo in download e trial che adesso me lo sta caricando dopo di che scenderò fino alla public release candidate cioè le candidate a diventare la release ufficiale vado qua vedete scendo fino andare a cercare la mia dove non è più su eccola qua versione 1.7.0.0 rc2 clicco qua e scarico il file premetto che potreste avere dei problemi nello scaricare perché molto probabilmente il vostro browser vi potrebbe dare il vostro computer vi potrebbe dare o addirittura l'antivirus l'antifiber bla 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 vi potrebbe dare degli errori e quindi dice attenzione file pericoloso scoppia la terza guerra mondiale sul vostro computer balle allora sappiamo che lightburn è una ditta seria per cui andiamo a installare superando tutte quelle barriere che ci frapporranno da noi a questa versione quindi andate tranquilli non succede nulla la prima cosa veramente interessante di questa release candidate è il fatto che possiamo andarla a installare non sopra alla nostra release che abbiamo attualmente installata sul nostro computer ma possiamo utilizzarle tutte e due ovvero sia siamo allo 1.6.0304 secondo di quella che avete installato ultimamente oppure siamo ancora una versione precedente non fa niente quella rimarrà uguale avremo poi una seconda versione di lightburn con questa 1.7.00 rc la vedete qui sopra nel diciamo nella linea della riga sopra della della finestra dove c'è appunto lightburn 1700 release candidate 2 cioè è la numero 2 andiamo a vedere però cosa consiste adesso vi faccio vedere quello che vi dicevo adesso che secondo me è stata una bella pensata quella che ha fatto lightburn ovvero sia di avere sul computer la mia release che non me la va a toccare nessuno quindi c'ho le mie cose preferite c'ho le mie impostazioni ho tutto quello che sono con quale sono abituato a lavorare e questa nuova vi faccio vedere se io vado qua a far a lanciare lightburn vedete che io qua la 1.6.03 che l'ultima versione la quale ho aggiornato il mio lightburn e sotto ho la 1.7.00 quindi possiamo tranquillamente far delle prove su 1.7.00 senza andare a correre rischi ecco l'unico rischio potrebbe essere che vi incappate in un bug perché andate proprio a prendere quella cosettina che non sono ancora riusciti a correggere e potreste buttare via un pochettino di materiale e vabbè avete perso qualcosa lo segnalate e fate un favore a tutta la comunità questo è lo scopo di questa release candidate provatele provatele tutti e fateci sapere se c'è qualcosa che non va nelle vostre funzioni ma andiamo adesso a vedere e vado a chiudere la 1.6.03 perché in questo momento non mi interessa allora devo confessarvi che con la 1.7.00 un'occhiatina me l'avevano fatta dare tempo indietro e logicamente mi avevano pregato la massima riservatezza e così è stato allora avevo notato che c'erano alcune novità ma quella che mi ha colpito di più è una funzione nuova che andiamo a vedere qua nel menu degli strumenti vedete che c'è un simboletto nuovo che sono questo paio che questo paio di forbici questo cosa fa se io vado a fare due forme diciamo una così e una così le vado a selezionare ok poi io voglio andare a togliere questa parte di questa intersezione quindi una volta dovevamo andare a fare i nodi eccetera eccetera adesso vi faccio vedere che è molto semplice perché io vado a selezionare questo strumento mi posiziono qua e vedete che mi evidenzia di rosso quella parte che andrà a tagliare senza convertirlo in tracciato senza andare a creare dei nodi eccetera eccetera così via io faccio tac gli do un taglio bel taglietto e riesco a fare quello che voglio poi posso andare anche a tagliare questa e faccio in questo modo vedete cioè molto 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 più semplice questo secondo me è l'aggiornamento più bello che c'è in questa versione ce ne sono altri ma questo per me number one punto cancelliamo il tutto e andiamo a vedere un secondo strumento che hanno modificato è lo strumento linea nello strumento linea adesso vedete che compare in di fianco al puntatore della linea un piccolo angolino blu ormai questi simbolini blu che sono un punto l'altro è diventata una caratteristica di light bulb questo cosa sta a significare sta a significare che io se vado a cliccare con la tastiera s questo mi diventa una curva quindi io posso muovere questo come fosse una curva ok quindi io vado così faccio così faccio le mie belle curve eccetera eccetera signori questo non è niente di che perché lo potevo fare anche prima io faccio adesso un esc e lo potevo fare anche prima con senza calcare la s con il tasti del mouse potevo andare a storcere il mio percorso e più o meno fa la stessa cosa quindi diciamo hanno fatto qualcosetina in più però non è quella grandissima grandissima novità e come vedrete di grandissime novità ce ne sono veramente pochine pochine allora seleziono ancora tutto quindi con contro tale vado a selezionare tutto e vado a cancellare tutto quello che ho sul piano di lavoro eccoci sul 1.6.03 di light burn faccio quattro quadrati quattro rettangoli 1 2 3 e 4 ok allora con la selezione ci sono due tipi di selezioni lo dico per chi non lo conosce o per chi ha le prime armi allora c'è una selezione che parte dall'alto a destra da sinistra per scendere al basso a destra che una selezione vedete che colorata di rosso che una selezione che mi fa selezionare solo le forme che sono interamente comprese nella selezione che faccio ed è questa qua avete visto che io ho fatto una selezione ve la ripeto faccio una selezione dove prendo tutto il primo rettangolo a sinistra ma non prendo l'altro vedete mi seleziona solamente questo se invece vado a fare la selezione verde che è quella che parte da basso a destra in alto a sinistra in questo modo io anche se prendo solamente una parte delle due selezioni me le prende tutte quindi questa una è inclusiva include tutto quello che io tocco quell'altra esclusiva solamente quelle forme che ho selezionato integralmente ve lo faccio vedere adesso cosa cambia su light burn 1 7 0 0 allora selezione rossa parto dall'alto scendo verso il basso cosa cambia seleziono solo la prima parte vedete che l'unica cosa che cambia è che prima il contorno diciamo di quella selezione rossa era trasparente non si vedeva adesso è leggermente colorato una piccola sfumatura faccio così mi seleziona solamente questa lo stesso accade col verde faccio così vedete c'è una sfumatura verde ma me le seleziona tutte e due quindi cambiato qualcosa si fondamentalmente niente un pochettino di estetica a mio avviso un'altra cosa che è stata implementata qui abbastanza pesantemente sono i codici qr code allora prima light burn ci consentiva intanto vado a pulire il piano di lavoro con la mia selezione che adesso diventa verde in questo modo e quindi cancello tutto e prima light burn ci permetteva solamente di fare dei qr code cioè i qr code sono quei codici bidimensionali quadrati dove ci sono tutti i quadratini chiari e scuri eccetera eccetera ci si possono mettere dentro dei loghi eccetera l'abbiamo già visto vi metto in descrizione il video che avevo fatto a suo tempo la prima volta che avevo fatto un video per i qr code adesso ci dà un'altra possibilità ve la faccio vedere perché si va in strumenti e c'è creat barcode perché prima era qr code cioè qr code quelli rettangolari quelli quadrati adesso c'è barcode perché perché io posso fare una forma in questo modo e poi mi dice mi chiede che tipo di barcode vuoi quindi io posso chiedere un qr code normale e quindi me lo fa rettangolare ora cambio il livello perché sono si capisce poco lo facciamo con un livello appena lo vado a selezionare di riempimento ok lo vado a selezionare con riempimento non si capisce che è un qr code ve lo rifaccio me ne faccio un altro qua magari è così è più chiaro allora faccio il qr code scendo fino a trovare il qr code normale che è quello me lo fa come sempre fatto il bello di questo è che possiamo fare adesso non solo dei qr code ma possiamo fare anche dei degli altri codici per esempio se vogliamo fare le an che un codice molto usato specialmente nella grande distribuzione eccetera eccetera perché io vado a mettere dei numeri e faccio ok e vedete che mi fa il classico codice a barre che è un formato depositato quindi che è un formato mondiale che c'è questo tipo di numerazione quindi io posso andarlo a lavorare così sicuramente questa implementazione è stata fatta per chi per quelle aziende che hanno la necessità di mettere dei codici a barre perché magari distribuiscono in grani per gli obbisti non ne vedo una grande necessità però il bello è che noi ne abbiamo abbiamo la possibilità di farne veramente di tantissimi tipi diversi non visto non ve ne sto a far vedere uno per uno perché guardate quanti sono e francamente poi vi devo anche ammettere che non è che sono un grande intenditore di questi codici per cui li vedo nei prodotti qualsiasi prodotto ci sono queste cose però francamente se devo dire la l'esigenza di un obbista non è sicuramente avere una cosa del genere comunque grazie light board ti ringrazieranno specialmente quelli che producono tante 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 cose un'altra cosa che sicuramente interessante ma non l'ho provata non l'ho provata perché è un laser nuovo non ho ancora stato la telecamera però ci sono delle novità per quanto riguarda la calibrazione dell'obiettivo della telecamera la calibrazione della telecamera che sicuramente dovrebbero essere interessanti non entro nel particolare perché vi ho detto non l'ho provata ma sarà mia cura fare un video dedicato alla calibrazione nuova della telecamera una volta che avrò il tempo di montare la telecamera sul luogo laser un periodo per me un po particolare questo non ho molto tempo da dedicare al laser però lo farò appena ho la possibilità di avere un po di tempo da dedicare la telecamera monterò una telecamera ne ho altro 4 quindi non è un problema vi farò vedere la calibrazione vi farò vedere sia dell'obiettivo che della telecamera con le nuove con le nuove istruzioni che da light board ma passiamo ad un altro argomento l'altro argomento che voglio affrontare adesso è la modifica della finestra delle impostazioni perché se io vado sulla 1.7.00 modifica modifica impostazioni vedete che è cambiato l'aspetto light board dice l'avevamo troppo affollata questa c'era troppe cose dentro e bisogna cercare di ottimizzare le cose perfetto quindi abbiamo l'editor dei setting quindi come vado a settare alcune cose vedete per esempio c'è la modalità principiante eccetera eccetera quello che c'era nella prima parte della scheda delle impostazioni poi la seconda vedete qui ha fatto delle tab in alto seconda le unità di misura quindi millimetri al secondo gli aggancia la griglia gli agganci e tabs eccetera eccetera il display quindi cos'è che va io vedete ho subito messo rendering riempito perché è una cosa che faccio subito e quindi queste qui ci sono un po meno istruzioni tutte insieme poi abbiamo import export dove possiamo andare a scegliere per determinate tipologie di file da importare ed esportare una parte c'erano già come questi degli svg oppure dei file di adobe illustrator e poi si sono aggiunte queste di importazione di DXF per poter andare a importarle in maniera migliore questo è quello che dicevo prima è la fotocamera altre due cose poi vi lascio perché altrimenti viene un video lungo pesante e serve solo a confondere le idee altre due cose che ci tenevo a dirvi che però voglio farle con dei video separati perché sono argomenti che sono sicuramente interessanti sia per chi ha le prime armi uno come il test dei materiali sia per chi è in modalità diciamo avanzata che è il copia lungo il percorso che hanno fatto delle modifiche delle modifiche perché è ora mi sembra inopportuno farlo qui perché sono abbastanza non dico complicate però diciamo che sono un po più alla portata di chi utilizza lightboard a un certo livello quelle dei test dei materiali invece è molto importante ma anche questo farò un video a parte sulla nuova sulla nuova modalità ma vi faccio subito un accenno cioè test dei materiali ve li faccio vedere su strumenti laser test del materiale vedete che a questo punto già lightboard ci dà qualche indicazione di massima mentre prima tutte le caselle erano vuote adesso ci fa qualche da qualche ragguaglio ovvero sia ci fa vedere che abbiamo queste velocità e potenza quindi ci fa delle scale e così via quindi chi anche questa è la prima armi che vuole fare un test dei materiali parte magari da questa base e poi piano piano va a restringere senza andarci a fare grandi cose quindi diciamo questa è una cosa molto utile a mio avviso e magari l'approfondiremo nella playlist dei primi passi perché quando entrerà in diciamo verrà rilasciato ufficialmente la 1.7.00 i nuovi diciamo laseratori potranno fare un test dei materiali avendo un minimo di base da cui partire e questa è un'altra cosa vediamo poi invece per quelle un pochino più avanzate di fare dei video come dicevo prima quello del segui degli elementi lungo il percorso ora mi sfugge mi sono un po' impappinato per conto mio lasciatemelo dire cioè copia lungo il percorso ecco mi è ritornato ormai cioè ormai i miei neuroni sono quasi cioè devo ricaricarli ogni tanto e diciamo che lo faremo però con dei video dedicati chiudo il tutto e allora cosa volevo dirvi ci sono state delle modifiche per quanto riguarda sicuramente per sommi capi non vi sto a fare tutto l'elenco di quello che hanno modificato e così via perché molto realmente interessa pochissimi adesso non c'è più da fare del diciamo delle compatibilità con le macchine Xtools possono lavorare tranquillamente con le Galvo ci sono state fatte delle implementazioni per cui possono lavorare tranquillamente e hanno diciamo attività aggiuntive quindi possono fare anche qualcosa di più rispetto a prima ma io non conosco le Galvo per cui non posso dire se sono valide o no perché non ho una Galvo per cui non lo posso fare e 50.000 migliorie magari piccole per quanto riguarda i file svg per quanto riguarda i file pdf per quanto riguarda importazione e esportazione di questi file vettoriali e così via però diciamo è inutile parlarne qui dove si fa una presentazione di quella che dovrebbe essere la nuova release io con questo adesso concludo vi auguro anzi mi auguro che questo video vi sia piaciuto se è così mi raccomando like io ve lo chiedo ma lo sapete mi piacerebbe che tutti di quelli che guardano i miei video fossero iscritti a una cosa attenzione perché fra poco vi do una grande novità che sto lavorando un'altra cosa c'entra poco con Lightburn ma c'entra molto con il video che faccio e con le istruzioni di Lightburn e come andare a fare una cosa molto 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 velocemente quindi non ve la perdete forse sarà il prossimo video forse magari il prossimo ancora però sto lavorando anche ad altre cose cioè è per quello che ho poco tempo solo 24 ore al giorno mi ce ne vorrebbero un po' di più comunque io vi saluto tutti iscrivetevi dai forza non costa niente è gratuito so che vi piacciono i miei video e se vi piacciono perché li seguite perché ho visualizzazione cliccate mi piace cliccate su sottoscrivi sottoscrivi non vi dico abbonatevi però se vi volete abbonare vi fate sicuramente un piacere vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video non perdeteli perché ho delle belle sorprese specialmente la prossima sarà una cosa utile a moltissimi di voi sia principianti sia già più esperti ciao